E siamo qui. Rachi, Rachele, con Rambo, Hira, Vale, Laura, educatrice cinofila. Là in fondo Franz con Poldo, Katia con Fido e Fabio con Zorro. Prego. Zorrone cane bavone. Di là dove c'è la sbarra. Prima passeggiata tutti insieme. Questa andatura è da cani da caccia che stavo smanendo. Ti farà un cadavere. Che solite cose. Guardate il kit che mi sia stata morta. Per il loro olfatto.